Il corso di omeopatia, lo chiamo per le mamme, ma è un corso per tutti ovviamente, anche perché è l'approccio, capisco, comprendo che è veramente difficile, quindi devo aiutarvi a capire un po' meglio i termini del discorso per curare meglio voi stessi e i vostri bambini. Quindi pensavo di fare dei brevi inserti perché so che avete pochissimo tempo, soprattutto le mamme devono pensare alla famiglia, al marito, ai bambini, quindi faremo un corso a spot, direi non vorrei fare più di 5 minuti per spot. Prima di tutto bisogna convincersi dei vantaggi dell'omeopatia, perché usare l'omeopatia e perché nei 35 anni che ho praticato l'omeopatia ho visto notevoli risultati sui adulti e sui bambini. L'omeopatia è una scienza medica naturale che presenta numerosi vantaggi. I medicinali omeopatici sono preparati dalle materie prime naturali del mondo vegetale, minerale e animale, quindi non abbiamo solo dei fitoterapici, ma abbiamo delle sostanze anche di origine minerale ed animale. L'uso di medicinali in piccoli dosi assicura l'assenza di tossicità dirette ed effetti colaterali, e questo è un punto molto importante. Infatti noi li chiamiamo rimedi, non li chiamiamo medicini. L'omeopatia cura il paziente stimolando le risposte specifiche per il ripristino dell'equilibrio della salute, quindi l'omeopatia è un'informazione che noi diamo al nostro organismo stimolando quella che chiamiamo la vix medicatrice nature a ripristinare l'equilibrio a tutti i livelli, a livello fisico, a livello mentale, a livello dell'anima e a livello dello spirito. A secondo, e lo vedremo più avanti, delle diluizioni che andiamo ad usare. L'omeopatia consente di trattare la malattia in maniera dolce, rapida ed efficace. Mi vorrei suffermare sul rapido ed efficace, perché la maggioranza delle persone pensa che l'omeopatia sia un percorso veramente lento. Non è così, l'omeopatia è estremamente rapida ed efficace. Se il rimedio che diamo al bambino o all'adulto è quello giusto, perché essendo un'informazione, l'informazione deve essere corretta al 100%. Qui sta la grossa difficoltà del rimedio meopatico. Mentre con il paracetamolo, una tachiperina, speriamo, alle volte non ci riusciamo, di abbassare prontamente la febbre, con il rimedio meopatico, aconitum, belladonna, rustoxicodendron, apis, dobbiamo trovare quello giusto fra quelli che l'omeopatia propone con le leggi che andremo a vedere più avanti. Importante è che l'omeopatia osserva l'uomo nella sua totalità e individualità, è una medicina cosiddetta olistica, quindi per comprendere e soprattutto usando alte diluizioni, andando sulla mente, l'anima e lo spirito della persona, bisogna comprendere quello che noi chiamiamo il nucleo profondo di sofferenza, cioè dove sta la sofferenza e il suo male essere che si è distribuito negli organi del suo corpo facendoli soffrire. Quindi una cefalea è diversa da ogni persona, una gastrite o una ulcere è diversa da ogni persona, un attacco di asma è diverso da ogni persona, perché le motivazioni sono profonde. Per questo i protocolli farmacologici soppressivi funzionano fino a un certo tempo, finché non c'è un aggravamento della malattia, o peggio, la gravattia si sposta in altri settori dell'organismo approfondendosi. La medicina attuale non ha ancora fatto questo collegamento. La cosa più banale è l'ezema curato con le pomate al cortisone, che fa scoppiare l'asma nel bambino piccolo dopo un anno, un anno e mezzo di cura. Ma gli esempi possono essere veramente molteplici. L'omepatia considera la persona inserita nel proprio contesto e secondo lo stile di vita della singola persona. È chiaro che se io voglio capire una persona nel suo spirito, nella sua mente e nella sua anima, devo capire dove vive, come vive, che rapporti ha con le altre persone, inserirlo nel suo contesto sociale e familiare, per capire meglio la sua sofferenza. La tossicità dell'omepatia rende ideale per il trattamento di affezioni in età pediatrica, nella terza età e nella gravidanza. Quindi i rimedi mepatici possiamo usarli benissimo in gravidanza, possiamo usarli nelle persone anziane e dobbiamo, secondo me, usarli assolutamente nei bambini perché sono privi di tossicità. Un organismo in accrescimento è un organismo che deve essere salvaguardato da effetti indesiderati, anche a distanza di tempo, sul suo sistema immunitario, anche a distanza di anni. Noi col farmaco non sappiamo bene dove andiamo a parare. Nel bugiardino leggiamo gli effetti immediati, ma non sappiamo quale danno può provocare sul nostro fegato, sui nostri reni, sul nostro cervello. Quindi attenzione all'uso nei farmaci di bambini. E questa sarebbe la prima puntata. Seguitemi, distribuite ai vostri amici diffidenti questo video, che faremo un bel percorso insieme. Grazie.